Buonasera e bentornati a Median Klagemawa TV, ovvero il muro del pianto dei mass media. Un insider della medicina suota il sacco. La maggior fonte di guadagno a livello mondiale è la medicina. Non si può che stimare quale sia la somma di denaro che l'industria farmaceutica incassa con la diffusione della paura. La loro segreto studio degli anni 40, che nel frattempo è venuto alla luce, trasmette un esempio orribile. In uno sperimento fu data da bere dell'acqua contaminata di colera a tre gruppi di persone. Al primo gruppo ne venne data di nascosto senza che lo sapessero. Sorprendentemente non morì nessuno di loro. Al secondo gruppo invece fu detto che l'acqua che avevano bevuto era contaminata di colera. Dopodiché morirono quasi tutti. Al terzo gruppo si diede dell'acqua pura, ma si disse loro che era contaminata. Dopodiché più della metà di persone di questo ultimo gruppo morì. Questo ci dimostra che così come la voglia di vivere ha una dinamica di vita positiva, allo stesso modo ne ha una negativa a causa della paura. All'atto di questo esperimento ci si chiede se la medicina non se ne approfitti di questa realtà. Grazie. Grazie.